Bene, allora complimenti perché ripeto è l'unica sagra dell'uva che rimane in provincia e quindi sarà anche un piacere andarci e seguire un po' come vanno le cose, migliorare un po' per esempio la distribuzione dei panini, queste cose alla gente piace, però non dobbiamo far fare file enormi, cerchiamo di migliorare questo. E restiamo a Comiso, allora sono passati 10-11 giorni dalla protesta di Paolo Crocifisso, una protesta che praticamente era una protesta dal basso, non una protesta politica, tanto è vero che c'erano pochi politici, ma come ho detto io, di qua gli è andata e di qua gli è uscito. Non sarebbe servito a nulla e a nulla è servito, se non a qualcuno per farsi vedere, per fare un po' di schifio, ma non era neanche il caso secondo me, proprio perché la qualità della protesta non era eccelsa dal punto di vista della politica. Era dei lavoratori che protestavano, niente di più. Però quello che sta accadendo con Catania che non smette di allungare le mani su quel poco che ha Comiso è un fatto molto preoccupante. Perché, scusa, Catania dovrebbe dire, ma no, Air Italy, fai di più su Comiso, visto che Comiso ci sei praticamente solo tu, cerca di diventare più, diciamo, forte su Comiso, in modo che davvero la gente possa contare su questo aeroporto e su questa compagnia aerea, invece no, gli dice no, vieni a Catania, ti facciamo fare un Catania a Roma, ma porca miseria, ce ne sono altri 5 o 6 che lo fanno, ci sono altri 5 o 6 voli, Catania a Roma, perché questo? Allora io mi sono preoccupato e ho detto, vuoi vedere che quelle facce di bronzo di Catania stanno tentando di aggirare, no? Quelli dell'Air Italy, che poi tra l'altro sono imprenditori, quindi alla fine loro basta che volano e acchiappano soldi, è la loro mission, non c'è dubbio. E ho fatto un articolo del genere, molti sono rimasti, si sono convinti di quello che ho detto io, ma a un certo punto su una critica proprio nei confronti del CDA e della SAC, c'è stato l'intervento di Sandro Gambuzza, che ha pubblicato delle faccine su questo intervento e queste faccine mi hanno un po' lasciato perplezzo, non so se si può un po' avvicinare, se non ce la fa niente, ma Sandro Gambuzza ha un commento di questo, ha messo tre risate e tre applausi. E io mi chiedo, eccole qua, no? Tant'è vero che poi l'Alessandra Sgallata, che ha risposto a Sandro Gambuzza, dice, non riesco a capire che cosa dice, ha fatto la faccia pensante, per cui io mi sono preoccupato e ho detto, ma Sandro Gambuzza, ma chi vuole rire? E ho scritto un posto, lui mi ha risposto, e lo potete leggere, pubblicato, dice, no, ma io sono, intanto ti seguo sempre, perché mi ero meravigliato, ma io sono stato con te tante volte, abbiamo combattuto. Io infatti sono d'accordo, lui prima era incendiario, tanto è vero che lui fece la questione della Camera di Commercio, quando fece saltare l'amministratore unico, come si chiama, Mancini, vi ricordate? L'ingegnere Mancini, poi si arrivò al presidente che era Giannone, con Nico Torrizzi, che ormai a vita fa l'amministratore unico dell'aeroporto. Quindi io dico, lui era partito senza dubbio incendiario, ma che ora sia diventato pompiere non me lo può negare. Io là, credo che lui, dice, ah ma io penso che sia meglio stare dentro. Sì, ma se stai dentro ci fai burdello. Se stai dentro ti stai muto e quando loro cercano di fregarsi anche quei tre voli, tu ci metti gli applaudini. No, non mi va bene. Io riconosco a Sandro Gambuzza una scelta, poi nella questione della Camera di Commercio lì erano tutti d'accordo. Io gli riconosco il coraggio che ha avuto, ma ora fa parte del CDA e non alza un dito per protestare. Quindi questa è la cosa che mi dà fastidio. Là dentro dovrebbe essere la quinta colonna di Commercio, la quinta colonna di Ragusani, dovrebbe essere Sandro Gambuzza dentro il CDA dell'aeroporto di Catania e quindi di Commercio. Se non fa la quinta colonna, fa il pompiere e con loro è basta. Quindi spero che lo capisca e che cambi modo di pensare. Grazie, vi lascio con Gianni Papa che parla di sport. Noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.